21. Benedixisti, Domine Magister Cerchio il seno attraverso il medium che da sempre vuole rimanere anonimo. Entità, già è l'ora che volge al desio. Domanda, come mai questo riferimento poetico al giorno che muore? Entità, che bisogna sbrigarsi, fin anco la vostra esistenza è fugace. Voglio solo che abbiate contezza della caducità della vita. Io che conobbi la sorte mortale di tanti miei simili, pianzi amare lacrime quando fui consapevole che neanche l'amore può vincere sull'umana fine. Per la gioia del mio spirito, esalato l'ultimo respiro, il mio spirito si involò verso mete astrali, ma sconosciute per la mia mente, che ancora soggiaceva alle umane e tenaci catene della materia. Ora veggo con molta lucidità il mio orizzonte che mi aduce valida speranza di vedere il mio prossimo futuro. Vi premetto subito che non desidero darvi notizie di me. Volevo sentire solo le vostre vibrazioni che per me assurgono a meta ambita. Per la mera necessità del mio essere, sento che condividere di nuovo con voi le vibrazioni energetiche assurge per me a meta finale. Io devo molta riconoscenza alle vostre guide, grandi guide spirituali, che in nome dell'amore universale fanno opera pietosa verso noi tapini che arranchiamo come disperati alla ricerca della luce. Miei umani compagni di viaggio, sappiate dare il giusto valore alle preziose esperienze che state vivendo, valida stampella morale e pratica per voi. Domanda All'inizio del tuo intervento hai parlato della drammatica esperienza vissuta nel vedere morire tanti tuoi simili. Entità Ebbi la trista evenienza di vivere ai tempi della grande pestilenza. Domanda Stai facendo riferimento alla grande peste del 1300? Entità Non so collocare temporalmente tale evento, ma credo di sì, in quanto i miei ricordi mettono in evidenza lo stile di un vestire adeguato all'epoca. Domanda Stiamo parlando di un evento accaduto in Europa circa otto secoli fa. Entità Secoli Che buffa espressione sentita da noi disincarnati. Io potrei usare un linguaggio consono a quell'epoca, ma il mio vernacolo deve essere inteso bene da voi. Domanda Hai adottato un linguaggio più vicino di qualche secolo ai nostri tempi per essere meglio compreso da noi? Entità Benedixisti Domine Magister Nota 1 Benedixisti Domine Magister Mi hai benedetto, maestro Continua Non so collocare 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 Grazie a tutti.